E' proprio per questo che abbiamo creato la Love Collection, una linea di abbigliamento che vuole ricordarci di agire sempre di più nell'amore. Sono dei capi che portano in modo stilizzato dei gesti o degli atteggiamenti dell'amore per ispirarci a farli più spesso, proprio perché ci fanno bene. Io prima di questo incontro non avevo mai considerato la possibilità di scegliere come affrontare ogni situazione. Non dico che sia facile per me, anzi me ne rendo conto che ho ancora molto da imparare. Invece tu, l'hai mai considerata questa possibilità, no? E cosa scegli di fare?